Il braccio laser ha mancato l'impatto con il bersaglio. Che cosa stai a dire? Lo so data. L'abbiamo mancato. Cosa? Abbiamo mancato il viso. Non ha funzionato. Non ha funzionato. Dove è finito il braccio laser? Non lo so signore, ma non si è scontrato con l'ondata di rete. Non lo so signore.